Rimane sicuramente tra le city car più apprezzate dagli italiani. Oggi vi presentiamo questa bellissima Fiat 500 che non è solo un'autovettura ma un oggetto di design. Scopriamola meglio. Dopo accurati i controlli abbiamo deciso di proporvela in vendita. Quindi partiamo dall'avantreno. Il proprietario ha provveduto a sostituire le illuminazioni precedenti con gruppi ottici a LED. Ma la vera chicca è proprio il colore. Che non è wrapping attenzione ma parliamo di una vernice verde alpina della Fiat originale così esce dalla casa. Bellissimi anche i cerchi lega da 15 color antracite e i vetri oscurati. L'allestimento come notate è la S quindi già l'alettone e i vari fascioni la rendono sicuramente molto molto più sportiva. E' stata immatricolata la prima volta a marzo del 2018. Il secondo proprietario l'ha acquistata a gennaio del 2020 che aveva appena percorso 15.000 km. Adesso il tachimetro ne segna 34.000. Ci siamo preoccupati un po' per lo scarso chilometraggio perché in Italia del 2018 questo modello qui con questi chilometri non ce ne sono. Stanno almeno il doppio ma grazie alla verifica che abbiamo fatto con il nostro strumento che va a controllare ogni singola centralina della vettura con anche le ore di lavoro. Abbiamo riscontrato che sono tutti originali. E' stata anche appena tagliandata a settembre del 2020 quando aveva appena 25.000 km. Ma adesso alziamo il cofano e vediamo che motorizzazione ha. Ed eccolo qui abbiamo questo 1.3 multijet storico ormai motore della Fiat da 95 cavalli. Un motore che ormai non viene più montato sulle autovetture di nuova costruzione per via dell'incettivazione del benzina. E quindi diventando sempre più rare queste autovetture con questo motore mantengono davvero tanto il mercato. Adesso vediamo l'accensione anche ai fumi dagli scarichi. Ovviamente accezioni e fumi dagli scarichi perfetta ma l'auto è incidentata qualcuno ci chiederà a me diamo un'occhiata innanzitutto all'avantreno e abbiamo verificato tutti i vari supporti dei fari e del fascione qui all'interno è tutto come originale dalla casa. Inoltre con la verifica del nostro spessimetro abbiamo verificato anche lo spessore della verniciatura e tutte le parti metalliche sono originali. Sono tutte in media sui 100 micron quindi auto originale per chilometri carrosseria ma adesso diamo un'occhiata anche agli interni. Dicevamo prima un oggetto di design perché anche all'interno il made in Italy si fa davvero apprezzare. Belli gli sportelli con questa pelle bianca che contrasta con gli interni neri e che ritroviamo anche qui sui sedili in parte in pelle e al centro in tessuto con le rifiniture bianche e 500S ricamato qui sulla pelle. Airbag laterali vediamo anche l'usura della corona del volante e come vedete non ci sono segni. Inoltre essendo allestimento S è bellissimo io lo amo tanto lo sterzo tagliato sotto perché dà sempre quel tocco di sportività. Anche qui parte che di solito si rompe invece la cuffia del cambio marce della leva della cambio delle marce anche qui è perfetta. E qui troviamo spazio per la ruota di scorta con i vari accessori per la sicurezza anche i sedili sono sdoppiati e come vedete anche l'usura qui dietro è pari a zero. Bene adesso non ci resta che provarla su strada ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati per tutte le nostre offerte. Andiamo! E' sicuramente un bel gioiellino. Adesso che la stiamo testando su strada devo dire che non avvertiamo innanzitutto rumori legati all'avantreno, ammortizzatori ok. Testiamo adesso partendo da fermi questo 95 cavalli che già presumo di tante soddisfazioni. Bene siamo pronti mettiamo la prima pedale della frizione molto morbido e partiamo. Inseriamo la terza e ci troviamo a 85 km orari. Testiamo la frenata direi perfetta ci sono attivate anche le quattro frecce non abbiamo avvertito neanche sbandamenti relativi alla frenata dischi e pasticche sono ok. Testando anche la strumentazione è tutto funzionante compresa anche l'aria condizionata e la modalità siti. Poi provando anche la radio sono rimasto stupito dalla qualità e la fedeltà che devo dire ottimi bassi e anche i output. Degno di nota è l'Apple CarPlay o Android Auto che collegando quindi il vostro smartphone avete la possibilità di tutte le vostre app, la possibilità di leggere i messaggi ma soprattutto quello di avere il navigatore satellitare. Comunque ragazzi tira che è una cosa, sentite, impressionante, davvero impressionante. Per conoscere tutti gli altri aspetti potete contattarci nei numeri che seguono e vi invito a prenotare un test drive non ne rimarrete assolutamente delusi. Vi aspettiamo. Grazie a tutti.